Bicchi, partita vinta anche oggi, quindi la seconda vittoria consecutiva, tu hai dato un attimo una parte di allegria a questa partita, visto che al posto di colpire la palla da un calcio d'angolo hai colpito comunque la bandierina. Eh ragazzi, la bandierina mi sembrava un pallone in quel caso e ci ho tirato un calcio, capita. Forse era la colpa di Mojito, dicevamo. Sì, probabile, probabile. Vero? Sì, i Mojiti ci entrano sempre. Aspetta un attimo, vai. Sì, abbiamo fatto il selfie. I Cavalieri del Mare, sono una squadra storica, 15 anni, quest'anno c'è anche il nuovo logo. Ok, io è il primo anno che sono con loro, motivo di fierezza, eccetera, un gruppo stupendo, mi stanno facendo le facce, è incredibile. E no, un ringraziamento a tutti, anche a quelli che non ci sono, Fiorentino, Beppe, tutti. L'obiettivo che ti sei posto da qui alla fine del Super Ego? Bisogna vincere, bisogna vincere, ce n'è per nessuno. Non ci sono rivali quindi? No, assolutamente no. Nessuna rivale, il tuo personale invece? Vuoi fare top goal? No, migliorare tanto, crescere, imparare tanto da questo sport. Il compagno più simpatico, il più casinista? Te lo dirò mai, tutti alla pari, tutti alla pari.